E' stato assegnato a Paolo Isotta, outsider della critica musicale, storico della musica e scrittore napoletano di successo, il premio Giovanni Paesiello Festival, che dal 2007 viene conferito ad una personalità o ad una istituzione contraddistintasi nella riscoperta e valorizzazione dell'arte del compositore Tarantino. La cerimonia di consegna si è svolta lunedì, poco prima della rappresentazione del barbiere di Sibiglia di Paesiello, nel chiostro di Sant'Antonio, anche martedì sera, a chiusura della quindicesima edizione del Giovanni Paesiello Festival, diretto da Lorenzo Mattei per gli amici della musica Arcangelo Speranza. Dopo l'attribuzione lo scorso anno al Teatro San Carlo, nelle mani del sindaco Luigi De Magistris, il premio va dunque ad un'altra istituzione partenopea, nel segno di uno dei compositori simbolo della cosiddetta scuola napoletana, dal quale prende il nome questo riconoscimento. Intellettuale, eclettico ed erudito, con il consueto acume critico, Isotta ha saputo vagliare nelle sue più recenti pubblicazioni lo spessore compositivo paesielliano, mettendolo a confronto stilistico con alcune opere mozzartiane. recita la motivazione del premio Paesiello. Il festival goda del sostegno di MIBAC, Regione Puglia, Comune di Taranto, Puglia promozione e soprintendenza, archeologia, belle arti e paesaggio, e di alcune eccellenze imprenditoriali, nazionali e territoriali. Il conte d'Alma Viva ruba la scena a Figaro, nel barbiere di Siviglia, rappresentato a Taranto, nel chiostro di Sant'Antonio, per il gran finale del Giovanni Paesiello Festival, diretto da Lorenzo Mattei per gli amici della musica Arcangelo Speranza. Tuttavia, nell'opera composta dal musicista tarantino a San Pietroburgo nel 1782, l'unione tra Rosina e l'aristocratico personaggio si delizza sempre attraverso gli ingegnosi inganni del factotum, che, al contrario di Paesiello, Rossini pone al centro del suo barbiere nel 1816. E quanto la nobiltà venga messa a dura prova dalla borghesia, in questa vicenda amorosa tutta sivigliana, è la chiave di lettura tra Settecento e i giorni nostri di Gian Maria Aliverta, giovane regista in grande ascesa, che subito dopo Taranto è atteso a Venezia con un ballo in maschera di Verdi per l'apertura di stagione della Fenice, teatro inaugurato nel 1792 proprio con un'opera di Paesiello, I giochi da Grigento. Questo nuovo allestimento del barbiere, realizzato in coproduzione con Voce all'Opera di Milano, vede Fabio Maggio sul podio dell'orchestra da camera del Giovanni Paesiello Festival. Nel chiostro di Sant'Antonio, spazio restituito alla città di Taranto dalla superintendenza per i beni archeologici, belle arti e paesaggio, il tenore Nestor Lausanne veste i panni del conte d'Almaviva, il nobile e innamorato della borghese Rosina, che ha la voce del soprano Graziana Palazzo. Il baritono Gabriele Nani è invece Figaro, il poeta e barbiere che evita il matrimonio tra Rosina e il suo tutore Don Bartolo, a sua volta rappresentato dal basso Luca Simonetti, del quale è confidente Don Basilio, il baritono Luca Vianello, altro giovane interprete di questo cast vocale, completato dal tenore Maurizio De Valerio e dal basso Gabriele Faccialà. E se in questa doppia rappresentazione si possono ascoltare parti solitamente non previste, come la splendida cadenza dell'area della lezione di Rosina e il nuovo gran finale con altre due aree scritte dal Paesiello per le rappresentazioni al Teatro dei Fiorentini di Napoli, si deve all'edizione critica di Francesco Paolo Russo, pubblicata dalla casa editrice tedesca Laber. Il rispettoso della musica, la colonna portante dell'intero allestimento è lo spettacolo confezionato con soltanto qualche elemento scenico ed un lavoro attoriale sui cantanti da Gian Maria Aliverta, coadiuvato dalla costumista Sara Marcucci, che ha vestito i protagonisti partendo dalle tinte degli abiti settecenteschi per arrivare alle mode dei giorni nostri.